Ciao e benvenuto nel mio canale come fare tech. In questo video vedrai come eliminare il green screen da un video in modo semplice e veloce con DaVinci Resolve. Non ti preoccupare ti mostrerò tutti i passaggi a video. Una volta caricato il video con il green screen vai nella sezione edit terzo tab nella parte bassa di DaVinci. Poi selezioni in alto FX e OpenFX. Nella barra di ricerca scrivi 3D e ti comparirà solo un effetto chiamato 3D Care. Prendi l'effetto 3D Care e trascinalo sulla tua clip con il green screen. Seleziona OpenFX Overlay e spostati in alto a destra. Seleziona la prima pipetta. Ora non ti resta che tirare una riga sul verde del tuo video e poi spostare la barra Despi a destra per andare a perfezionare la rimozione del verde. Adesso prendi la clip che hai appena lavorato e la sposti sopra il video originale. Come puoi vedere abbiamo eliminato in modo facile e veloce il green screen del tuo video. Ora non ti resta che sistemare a tuo piacimento il video che hai appena creato. Se ti è piaciuto il video iscriviti e metti un like.